Siamo negli studi di Aska News con l'onorevole Ermete Realacci, parlamentare del Partito Democratico, Presidente della Commissione Ambiente della Camera. Il 17 aprile c'è questo referendum sulle trivelle, facciamo un po' il punto su quelle che sono le ragioni delle varie posizioni, ma soprattutto su che cosa rappresenta questo referendum dal punto di vista legislativo, insomma che cosa andiamo a votare? Ma il quesito che andiamo a votare è molto limitato. Si va a votare su una norma che prevede che le piattaforme esistenti possano continuare ad estrarre petrolio e gas, soprattutto gas in realtà, fino all'eserimento del giacimento, le piattaforme esistenti entro le 12 miglia. Queste piattaforme attualmente estraggono il 3% circa del gas che consumiamo e l'1% circa del petrolio che consumiamo, quindi sono soprattutto piattaforme di gas, è chiaro che se le chiudiamo lo prenderemo da fuori questo gas, non è che smetteremo di consumare gas. È l'ultimo sopravvissuto di una partita di sei referendum che sono stati indetti per la prima volta nella storia d'Italia, della normativa referendaria dalle regioni per rispondere allo sblocco Italia. Nello sblocco Italia il governo fece una scelta, secondo me è discutibile, lo dissi anche allora, c'erano molte cose positive nello sblocco Italia in tanti settori, penso al distesso idrogeologico, penso a anche iniziative sulle metropolitane, sulle ferrovie eccetera, però fece una scelta di forte enfatizzazione delle potenzialità di petrolio dell'Italia e fece questo anche centralizzando molto le decisioni e scavalcando quindi le regioni. Le regioni hanno reagito promuovendo sei referendum, il governo nella legge di stabilità ha cambiato le norme in maniera tale che cinque referendum sono stati sostanzialmente assorbiti, erano un referendum molto importante, in particolar modo il più importante di tutti era quello che prevedeva il blocco delle trivellazioni entro le 12 miglia, oggi l'Italia è l'unico paese europeo in cui non si può trivellare entro le 12 miglia, quindi quando vediamo questi fotomontaggi di trivelle fiammeggianti davanti a fariglioni di capri sono falsi perché in Italia questo è proibito per legge, è rimasto solo questo. A mio avviso il governo avrebbe dovuto lavorare per assorbire anche questo quesito, non è stato fatto e andiamo a votare. Io francamente voto sì non tanto per il valore del quesito che è indiscutibile, voto sì perché voglio dare un segnale per una politica che spinge di più, poi eravamo assieme alla Coppa 21 di Parigi sul risparmio energetico, sulle fonti rinnovabili, sulla innovazione, sulle tecnologie, questo è per me il senso del SIE referendum. Quindi diciamo che dal punto di vista delle ragioni, la ragione del SIE è una ragione tecnica, anche se è stata connotata forti valori green, forti valori verdi, forti valori ambientali, sta diventando nell'opinione generale, nel sentito comune anche un polso politico però questo referendum. Questo mi potrebbe paradossalmente mettere in imbarazzo perché se il referendum diventasse un referendum sul governo, sul Renzi, io non potrei votare sì a questo referendum e non dovrei neanche partecipare al voto, anche perché onestamente penso che il futuro dell'Italia e un'Italia più attente a temi ambientali è poco rappresentato da un'asse fra Salvini, Grillo e Berlusconi per capirci, quindi mi auguro che questo elemento non sia quello prevalente da qui al voto e le cose che io dico vengono quale che sia il risultato del 2017, perché io penso che veramente l'Italia più forte se fa un investimento sul futuro. C'è una bellissima frase che ha detto una volta qualche decennio fa, il ministro saudita del petrolio, lo scecco Yamani, persona di grande intelligenza e di grande potere anche, che una volta ha detto che l'età del petrolio, l'età della pietra non è finita per mancanza di pietre, che l'età del petrolio non finirà per l'esaurimento dei pozzi ma per la tecnologia che è il vero nemico dell'OPEC. Io la penso alla stessa maniera, il superamento dei combustibili fossili non avverrà perché finirà il petrolio, perlomeno nel tempo che ci è dato di prevedere, poi magari fra un secolo la situazione sarà diversa e tantomeno per la chiusura di qualche piattaforma. Finirà se la nostra economia, come sta in parte accadendo, si orienta verso l'efficienza, verso consumi più intelligenti e più sobri, verso le rinnovabili. Ecco, questo orientamento io vorrei che fosse più forte, questo è il senso del mio sì, è un senso che, ripeto, va al di là dello stesso risultato del referendum del 2017.